L'incontro di venerdì a Roma con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida non soddisfa pienamente gli agricoltori e gli allevatori sardi. Da quasi due settimane riuniti in un presidio davanti al Molo Dogana del porto di Cagliari per protestare contro le politiche dell'Unione Europea. Durante il faccia a faccia il ministro ha presentato ai manifestanti, compresa una delegazione proveniente dalla Sardegna, le misure che il governo Meloni intende adottare per sostenere il settore. Ma ancora non basta, vogliamo fatti concreti, non parole, contrattaccano gli agricoltori e gli allevatori, da quello che è ormai diventato il loro quartier generale, dove il sit-in andrà avanti a oltranza, almeno fino al 20 febbraio. Per adesso di preciso proprio non si sa ancora niente, però per adesso non siamo ancora soddisfatti. Il nostro obiettivo è di raggiungere tutti i punti che ci siamo prefissati, quindi fino a quando non si arriva alla vittoria completa non ci accontentiamo dei soliti contentini che sono abituati a darci. Il ministro ha proposte alla fine, si può dire che neanche ne ha fatto, il ministro si può dire che ha chiuso le porte quasi per tutto, però ripeto, noi non ci accontentiamo, noi dobbiamo ottenere tutto. Ormai ci siamo mossi, ci siamo uniti tutti quanti e fino a quando non si raggiunge l'obiettivo non si molla. Fino a quando non ci saranno cose scritte, chiare, a parole semplici soprattutto, perché loro ne approfittano che noi non usiamo il loro linguaggio, quindi secondo loro ci imbrogliano come vogliono. Fino a quando non si è chiari e si sistema tutto, noi da qua non ci muoviamo. Grazie.